Non fidarti di lui! È un uomo cattivo, vuole farti del male! Cameron, c'è tutto a posto. Che c'è che non va in me? Non c'è niente che non va. Questo non è reale. Ma sembra reale. Lo sembra perché tu ci credi. Smetti di crederci. E ti prometto che sparirà. Puoi far sparire tutto. Devi solo ascoltarmi attentamente, ce la puoi fare. Ok. Hai un colore preferito? Blu. Oh, che bello, è anche il mio. Vedi quella porta blu? È il tuo mondo, Cameron. Puoi controllare qualunque cosa. È la tua via d'uscita. Sbrigati, la mamma ti aspetta. Su, avanti. Andrà tutto bene.